Perfetto, buongiorno a tutti, però ci ritroviamo oggi per un nuovo seminario del ciclo di seminari relativi a Cifris Chain, siamo un gruppo di criptografi e a EPU interessati alla tecnologia blockchain all'interno dell'associazione delle Cifris. Il seminario di oggi è un seminario che è di interesse sia per chi ama la teoria che per chi ama la pratica. Abbiamo Luca Nizzardo che è un ricercatore di Protocol Labs, che ci parlerà di Filecoin, che è una cryptocurrency che fonda il suo meccanismo di consenso per tutto questo. Sono diverse cose interessanti che Luca ci potrà raccontare. Luca è un criptografo di formazione con dottorato fatto in Spagna sotto la supervisione di Luca Fiore, del professore Luca Fiore. Poi dopo il dottorato inizio a lavorare per Protocol Labs, che è un'azienda che si occupa di decentralizzazione. Infatti avete sentito parlare di IPFS, che è uno dei progetti che Protocol Labs porta avanti. Poi ora c'è questa cryptocurrency che è partita un anno fa. Benissimo, quindi cedo la parola a Luca. Grazie Ivan per l'introduzione. Come hai detto oggi parlerò un po' di Filecoin e in particolare di Proof of Space. Il titolo della talk è Proof of Space from Proof of Space Blockchain to Decentralized Storage e vedremo un attimo come usiamo appunto questa primitiva nel nostro sistema di Filecoin. Lasciatemi introdurre giusto con una slide Protocol Labs. Come ha detto giustamente Ivan, Protocol Labs è una startup che è stata fondata nel 2014. Potete pensarla come un centro di ricerca e sviluppo open source che è committed per la nuova generazione di internet, quindi per l'internet decentralizzato. Abbiamo vari progetti in corso. Il più famoso, il primo che è stato lanciato è IPFS, Interplanetary File System. Ne abbiamo altri che potete vedere sul nostro sito. Quello su cui io lavoro è Filecoin, che appunto è questa cryptocurrency, questo blockchain network, che ha come obiettivo la decentralizzazione del cloud storage. Al momento Protocol Labs ha circa 150 collaboratori full-time e siamo al 100% in remoto, per cui ognuno lavora un po' da dove preferisce. Che cosa vogliamo fare? Qual è il fine ultimo di Filecoin? Come dicevo prima, è la decentralizzazione del mercato dello storage. Quindi vogliamo passare da un mercato dove ci sono dei player principali che gestiscono il tutto, Amazon, Google, Microsoft, Dropbox o altri a potete pensare, a un mercato decentralizzato dove c'è una network che si prende cura dello storage dei dati. Qual è il passaggio fondamentale per passare da un'infrastruttura di tipo centralizzato a una decentralizzata? Quello che noi utilizziamo è una blockchain che viene usata come trusted third party per tenere traccia di tutto quello che succede nella network. L'outline di questa talk può essere diciamo riassunto in questi quattro punti. Andremo a vedere qualche preliminaries ad alto livello. Ho cercato di tenere la presentazione il meno tecnica possibile in modo tale che fosse accessibile a persone con con differenti background. Vedremo poi che cos'è una Proof of Space, in che cosa differisce dalla più famosa e più usata Proof of Work e come possiamo sia costruire una Proof of Space sia usarla per mettere in in campo una una network di persistent storage nel modo in cui appunto lo abbiamo fatto con Ficon. Come diceva Ivan, sentitevi liberi di interrompermi quando quando avete una domanda, quando preferite. Sono ben contento di tornare su cose che magari non sono chiare o che necessitano di approfondimenti particolari. Partiamo con qualcosa che tutti sappiamo. Che cos'è una blockchain? Una blockchain è un ledger distribuito, quindi è mantenuto dalla network ed è organizzato in blocchi dove troviamo tutte le informazioni di cui la network ha bisogno. Tendenzialmente c'è una header, ci sono una lista di transazioni e ogni blocco è collegato al precedente. Qual è il problema critico principale, diciamo così, di tutti i blockchain systems? È avere un consenso su qual è il blocco successivo da aggiungere alla catena. E come lo si fa normalmente la diciamo l'idea introduttiva come tutti sappiamo quella di Bitcoin è di usare una Proof of Work ehm che possiamo pensare a una come a una lotteria basata su potere computazionale dove si fanno vari tentativi di trovare un un nonce, una stringa che sia corretta per quanto riguarda diciamo così le regole di introduzione del blocco di Bitcoin ehm e più abbiamo potere computazionale più tentativi possiamo fare più facilmente con maggiore probabilità ehm riusciremo a a minare un blocco e tutti questi diciamo questo questo tipo di consensus prende il nome di Nakamoto consensus protocol in onore del del nome di Satoshi Nakamoto chiunque gli sia che ha introdotto Bitcoin eh per primo. Che cosa c'è di nuovo ehm in file coin rispetto ehm rispetto a a Bitcoin ehm la differenza principale è tendenzialmente che non usiamo Proof of Work e come ha già preannunciato Ivan nell'introduzione usiamo Proof of Space. In particolare usiamo Proof of Space in per due ehm obiettivi principali. La prima è ehm avere consensus rispetto ai blocchi successivi che vengono messi in catena e qui diciamo lo scopo è esattamente lo stesso di tutte le cryptocurrency risponde al problema principale che menzionavo prima. La seconda eh è provare persistence of storage per cui provare che dello storage di cui si è fatto commitment in una in un in una network eh effettivamente sia sia mantenuto. Qual è l'aspetto principale di 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 un sistema di questo tipo? Ehm in un certo modo è come se il le le risorse che vengono spese per assicurarsi il consenso eh vengano riutilizzate, riciclate per permettere ehm l'esistenza di un di un di un mercato di di storage. E questa è un po' la feature eh principale che ci differenzia sia rispetto a Bitcoin sia rispetto ad altre cryptocurrency che eh si basano anche loro magari su 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 proof of space. Ehm lasciatemi menzionare alcuni ehm alcune primitive criptografiche che eh che 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 menzionerò molte volte nella nella presentazione. Di nuovo faccio un ne do una visione di alto livello mi mi scusino i criptografi che sono al seminario per diciamo la la trattazione un po' un po' spannometrica ma è giusto per dare un overview. Ehm la prima cosa sono hash function? Cosa sono hash function? Eh la metafora potrebbe essere quella di un imbuto dove ehm si può mettere una stringa di qualsiasi dimensione e l'output è un digest un un'impronta ehm di lunghezza fissata. Eh queste funzioni hanno varie proprietà ehm in particolare dato un output ehm è difficile trovare un input eh tale per cui l'hash è valutata su questo input dall'output eh iniziale eh è difficile trovare due messaggi eh che diano lo stesso output e ehm in particolare l'ultima feature che ehm che anche diciamo così ehm che potrebbe sembrare meno importante delle altre due ma ha un'importanza cruciale è che ehm cambiando leggermente l'input l'output della funzione cambia in maniera ehm impredictable quindi non posso fare minimi cambiamenti nell'input sperando i minimi cambiamenti nell'output. Parliamo di commitment. Che cos'è un commitment? Potete pensare a un commitment scheme come un protocollo tra due persone Alice e Bob dove Alice promette di mettere i propri dati in una busta e Bob quando li li vuole riesce a ottenerli con due garanzie di binding e di hiding. Binding ehm intuitivamente dice che Alice non può dare a Bob un messaggio diverso da quello che ha posto che ha messo inizialmente nella busta eh e hiding dice che Bob finché il messaggio che c'è nella busta non gli viene rivelato non può vedere niente non può non può imparare niente di quello che Alice ha messo nella sua busta. Questa nozione di commitment possiamo estenderla a vettori quindi a eh a stringhe con una posizione associata e in particolare dato un un insieme di di valori v1 v2 possiamo dare una una rappresentazione concisa c tale per cui possiamo aprire eh alle singole posizioni o possiamo aprire anche a un set di posizioni e ehm la prova la 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 proprietà di sicurezza che abbiamo in questo caso è quella che si chiama position binding cioè dato un commitment io non posso aprire alla stessa posizione due valori distinti quindi è un po' un'estensione del binding di prima prima binding mi diceva che non posso aprire la busta e far e e e mostrare un un valore un messaggio diverso da quello che avevo messo ehm inizialmente posizioni binding mi dice che la stessa posizione in un commitment non può essere valida per due valori distinti un esempio che tutti conosciamo anche se non l'avete mai pensato come un vector commitment o come un commitment ehm è quello dei mercol tree eh supponete di avere una string un dato di che potete dividere in blocchi in questo caso abbiamo messo otto blocchi di uno di otto eh potete darne una rappresentazione concisa facendo questi hash a coppie quindi prendendo di uno e di due facendo l'hash prendendo di tre e di quattro facendo l'hash di cinque e di sei e così via e poi andando eh a procedere diciamo così per coppie e avendo quindi una rappresentazione concisa una root che è effettivamente un commitment ai dati che che abbiamo preso in in input che cosa succede nel momento in cui eh dato un commitment quindi data una rappresentazione succinta di eh di un di un dataset ehm qualcuno chiede che venga rivelato un particolare input per esempio di sei come faccio a convincere eh Bob in questo caso se sono Alice che di sei è effettivamente l'input che era stato ehm che era stato messo nel commitment all'inizio quello che posso fare è dare in output di sei e anche ehm diciamo il i valori intermedi per cui posso dare cinque posso dare l'hash di sette otto posso dare l'hash di uno uno due tre quattro e tutti gli altri eh valori che mi servono per verificare che appunto di sei sia eh il il dato corretto in quella posizione nel commitment iniziale sono solamente questi perché perché h cinque sei lo posso calcolare con con cinque che viene dato e con di sei che è il valore che dico che deve essere ehm che 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 dico essere quello ehm appartenente alla posizione sei ehm h cinque sei sette otto può essere calcolato con h cinque sei e h sette otto che a sua volta viene dato come parte della prova di opening diciamo e poi eh posso usare h uno due tre quattro e h cinque sei sette otto per controllare che l'hash di questi due valori sia effettivamente il commitment cioè la rappresentazione concisa di quello che eh che è quello che Bob ha 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 in mano insomma è un qualcosa di pubblico andiamo a a vedere un po' di numeri eh giusto per farvi capire quanto si guadagna tra virgolette a utilizzare questo tipo di strumenti invece di per esempio mandare una rappresentazione del dato senza senza farne il commitment eh in Filecoin abbiamo ehm diciamo unità di di spazio da trentadue gigabyte eh organizzate in dati da trentadue byte ciascuno questo vuol dire che un un dato di è due alla trenta per trentadue byte se utilizziamo sha 256 per fare il commitment la size di un commitment è trentadue byte perché è l'output di questa funzione e la prova ehm diciamo così in questo esempio per dimostrare che appunto che D6 è il dato corretto alla posizione 6 eh nel nostro caso è trenta volte trentadue byte quindi perché dobbiamo dare tutti questi nodi intermedi per poi permettere a Bob di fare nella verifica e quindi invece che trentadue gigabyte questa questa opening può essere provata con un solo kilobyte. Andiamo a vedere adesso che abbiamo mh dato un'infarinatura generale dei concetti di crittografia base che ci servono che cos'è una proof of space? Di nuovo possiamo pensare a una proof of space come a un protocollo tra due persone Alice e Bob che è fatto di due fasi. Una fase di inizializzazione che potete vedere come un setup one time e una fase di execution che è come se fosse un un audit ripetuto più volte. C'è un public input di di size n e quello che Bob vuole assicurarsi è che Alice sta facendo storage di un di una stringa incompressibile esattamente di quella stringa o comunque di di n meno qualcosa di negligible. Ora quello che succede è Alice prende questo public input a dei dei degli algoritmi crittografici che applica questi public input che vedremo che vedremo poi e quello che riceve in output da questi algoritmi è un advice uno store uno storing advice che committa fa un commitment e manda il commitment a Bob durante l'execution Bob che ha il commitment dell'advise fa delle challenge ripetute ad Alice per assicurarsi che Alice stia comunque tenendo questo questo advice ora come possiamo definire informalmente la sicurezza cioè la soundness di questo protocollo quello che diciamo è che per produrre una prova che passi la verifica cioè per convincere Bob del fatto che lei stia stia facendo storage di questo advice Alice o deve fare storage di gran parte di questo advice oppure deve deve fare una computazione che le costa t steps ora che cosa vuol dire una computazione che le costa t steps perché sto dicendo t steps perché Alice può sempre rifare l'inizializzazione e come dire rigenerarsi l'advise questa cosa però come potete immaginare ha un costo e questo costo è quello appunto di questi t steps se questi t steps sono infisible o irrazionali Alice potenzialmente avrà una avrà in una delle due strategie quindi quella razionale o quella di impossibility mantenuto il file nel momento in cui ha mantenuto l'advise nel momento in cui la sua prova passa la verifica ora che cosa vuol dire nella pratica che t step computation non è non è sostenibile da Alice abbiamo due modelli il primo modello è un time model dove Alice deve rispondere a una challenge che gli viene fatta da Bob in un in un in un lasso di tempo predeterminato e quello che che vogliamo è che se Alice non sta facendo storage dell'advise ricalcolarselo in qualche modo le costa un tempo superiore a quello che ha a disposizione in questo caso nel momento in cui abbiamo un time model abbiamo bisogno quindi di una timing assumptions quindi dobbiamo tradurre questi t steps della computazione necessaria in 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 secondi un altro modello che poi è quello che per gran parte in questo momento consideriamo in file coin è un cost model cioè in sistemi blockchain che sono razionali dove quindi un un player vuole massimizzare diciamo così ehm il suo profitto se questi t steps sono più costosi di fare storage di un advice allora eh la strategia migliore per Alice è quella di tenersi l'advise piuttosto che eh ricalcolarselo in questo caso come prima nel time model avevamo bisogno di una di una timing assumption eh abbiamo bisogno di una cost assumption per fare per 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 diciamo così tradurre la computazione in in costo in questo nuovo modello ora perché usare proof of space eh è diverso e in che cosa si differenzia da proof of work eh è abbastanza intuitivo ma proof of space tendenzialmente eh permette di ehm di utilizzare una risorsa che non è una computazione ma è semplicemente tra virgolette fare lo storage di un certo tipo di advice e in questo senso è più efficiente e in qualche modo più green rispetto a a proof of work nel momento in cui si riesce a fare plug in di una primitiva di questo tipo per assicurare consenso ora la domanda è come costruiamo nella pratica una proof of space eh ricordatevi che appunto questo questo advice che è quello che è l'output dell'inizializzazione deve essere incompressibile perché altrimenti dimostrare che Alice ha l'advise non implicherebbe eh dimostrare che Alice sta riservando del una certa quantità di spazio ehm per 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 fare storage di questo advice ehm ci sono varie tecniche eh per per costruire il proof of space una di queste che è quella diciamo così della prova che utilizziamo in questo momento in file quella che viene chiamata graph based proof of space eh e l'idea è quella di di decidere un grafo ehm dove potete definire un grafo come un insieme di nodi e e edges dove non ci sono cicli e di fare l'encoding eh di questo di questo advice eh utilizzando tendenzialmente hash functions ehm in particolare possiamo vedere l'inizializzazione come una fase in cui partendo da public input vengono costruite le labels di questo grafico in ogni layer eh viene provato che queste che queste che queste eh che queste labels sono state create nella maniera corretta e poi l'advise non è altro che l'ultimo layer di questo grafo ehm che costruiamo appunto eh utilizzando hash functions un po' più formalmente come come definiamo una label mh definiamo una label CI come l'hash di ehm la posizione quindi i i public input e tutti i i parenti del nodo del nodo CI per esempio eh nel grafo che stiamo guardando adesso se noi vogliamo calcolare la label di C4 avremo eh l'hash di 4 tutti i public input e tutti i nodi che sono collegati da frecce con con C4 in eh in modo tale che C4 è diciamo il figlio o il nipote di questi nodi per cui faremo eh useremo C3 useremo C2 eh e questa sarà diciamo così la label che fa encoding di C4 una volta che abbiamo fatto questo lavoro per tutto il grafo avremo fatto ehm le le labels C11, C12, C13, C14, C15 e questo sarà l'advice su cui poi Alice eh verrà fatta challenge eh verrà verrà sfidata diciamo così nella fase online si fa con commitment a questo ultimo layer il layer verde di questo grafico con un Merkel tree ehm e questo Merkel tree viene nel protocollo che abbiamo visto prima viene dato a Bob quindi Bob finisce con il commitment eh del del layer verde e Alice dovrebbe eh finire con eh l'ultimo layer eh di questo grafico ora come funziona il check l'execution ehm tendenzialmente Bob fa delle query quindi chiede periodicamente ad Alice di dimostrargli il valore eh di uno dei nodi verdi ricordatevi che come abbiamo visto prima una volta che Alice dain output il nodo verde e il path nel Merkel tree Bob che ha eh il Merkel tree mh il commitment riesce a verificare se effettivamente il valore che gli viene dato da Alice eh è giusto è giusto rispetto al commitment e la posizione oppure no. Ehm e perché tutto questo processo è sicuro perché ricomputare un nodo se ehm se Alice non lo ha è o lento e vedremo perché oppure costoso e vedremo perché eh in generale l'intuizione è che se Alice viene se Alice viene chiesto un nodo che non ha per via di tutte queste ehm parenthood relation per cui la label di un di un nodo dipende da tantissimi nodi su tutto sul resto del grafo o non riesce in tempo a calcolarli oppure gli costa troppo rispetto a fare storage di tutti i nodi verdi di cui eh di cui dovrebbe fare storage. Ora che proprietà il grafo che usiamo nella prova nella proof of space che c'è in file qui in oggi. Eh il grafo è esattamente eh del tipo di quello che vi ho messo nella slide e ci sono due tipi di grafo. Il grafo con gli spigoli eh rossi è un depth robust graph. Eh sono grafi particolari che hanno la proprietà per cui per ogni insieme dell'ottanta per cento dei nodi ha un cammino non parallelizzabile che è lungo come il venti per cento dei nodi e se vi mettete diciamo così nel nel setting di una proof o di un di un time model o di un cost model sappiamo che questo path o richiede un certo tempo per essere calcolato perché è un path non parallelizzabile oppure richiede un certo costo per essere calcolato perché sappiamo quanti sono gli hash che servono che serve calcolare per calcolare una determinata labels. Eh quindi in uno stesso layer i nodi sono collegati con questi depth robust graph che hanno la proprietà che vi ho appena detto. Le le connessioni intra layer invece sono expanders per cui ciascun nod di un layer è collegato a vari nodi del layer superiore e questo ha diciamo così dalla proprietà di esplosione diciamo così di di connessioni nel momento in cui uno ad esempio non avesse eh un nodo su cui gli viene fatta una charge. Qual è la qual è la la l'intuizione di sicurezza? Se il miner non sta facendo storage deve ricomputare e ehm e ricomputare è o ehm lento come vi ho detto oppure costoso. Per esempio supponiamo che Alice faccia storage solo dei primi tre nodi e non faccia storage di C14 e C15 perché vuole salvare spazio. A questo punto se una challenge casca in C14 o C15 questi nodi sono ehm collegati come vedete nell'immagine a la stragrande maggioranza del del layer superiore e in particolare a tutto il layer a tutto il primo layer. Eh tenete presente che in in Filecoin abbiamo una un grafo che ha dieci layer per cui questa esplosione eh eh è amplificata diciamo così eh fino fino all'ultimo livello. Ora adesso che abbiamo un modo per avere proof of space mh dobbiamo in qualche modo ehm utilizzarlo per fare eh useful storage. Perché sto dicendo useful storage? perché fino adesso quel quel layer verde che che vi ho fatto vedere è un layer che è frutto di ehm computazioni di hash function su dati che abbiamo visto ma non è un un per le proprietà di hash function che abbiamo che abbiamo visto prima non è un un posto dove io posso mettere i dati che voglio. Per cui mi dà quella che si chiama space hardness perché se non ho tutti i nodi verdi e e e una challenge mi casca su uno dei nodi che non ho io comunque ehm non riesco a ricomputarlo o in tempo o in in modo in modo razionale però quello che noi vogliamo per avere una storage network eh una useful storage network è mettere dei dati veri dentro questo proprio space. E allora vedremo vari esempi di alcune idee che possono venire eh così on the spot e perché non funzionano e perché invece eh abbiamo deciso di 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 fare qualcosa di di diverso da quello che vi sto appena che vi sto raccontando. Ehm ora uno potrebbe dire utilizziamo mh una proof of retrievability per ehm assicurare che Alice faccia storage dei dati eh di Bob. Proof of retrievability è una primitiva crittografica per cui Alice riesce a convincere Bob che eh ha accesso a un file che Bob gli ha preventivamente gli ha preventivamente mandato. ora perché questo non funziona? Perché proof of retrievability non ci dà nessuna assicurazione rispetto a space hardness cioè al fatto che questo advice che il dato che Bob manda ad Alice sia effettivamente incompressible e quindi Alice potrebbe tendenzialmente usare una 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 rappresentazione ehm ridotta del dato e riuscire a espanderla quando Bob gliela chiede. Ora qualcuno mi potrebbe dire vabbè ma noi facciamo fare la proof of space a Bob eh e gliela facciamo mandare ad Alice in modo tale che la space hardness viene garantito da questo da questo tipo di interazione. In realtà però eh dobbiamo pensare che in sistemi blockchain di questo tipo ehm non sappiamo a priori che Alice e Bob sono due persone diverse e che non collunono. Perché per esempio mh Alice potrebbe avere multiple identities e fare una sorta di protocollo con se stessa senza che nessuno se ne renda conto per esempio per fare storage di una stringa di zero. E quindi non abbiamo un modo per fare enforcing di questa space hardness. Quello che possiamo un'altra idea potrebbe essere facciamo proof of space e a parte facciamo proof of retrievability. E qui il problema qui sembra da un lato di risolvere il problema di space hardness però c'è un 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 dettaglio a cui dobbiamo stare attenti anzi due. Il primo dettaglio è che la proof of space e il dato il file non sono legati in alcun modo perché abbiamo detto che questa questa proof of space prende dei public parametri in input. Quindi potenzialmente io potrei riutilizzare il mio advice per multiple per per diversi file. Il secondo problema è che non sappiamo di nuovo se Alice e Bob sono due persone diverse. Per cui di nuovo con l'esempio di prima se Alice fa un un protocollo fa running del protocollo con se stesso su una stringa di zeri la parte di proof of retrievability è compressa mentre invece un un utente che fa il protocollo in maniera onesta avrebbe sia l'advise di proof of space sia il file da di proof of retrievability. Quindi ci sarebbe una sorta di disparità tra l'utente onesto e l'utente disonesto che ovviamente non vogliamo. Che cosa possiamo fare? Possiamo ed è quello che facciamo in file coin con con questa nuova primitiva che si chiamano proof of retrieval prove of replication. Linkiamo praticamente l'advise al dato al dato che che il miner ha promesso di di conservare e questo approccio tendenzialmente funziona perché ha la space hardness e la retrievability in un unico advice e vedremo dopo come come lo come lo raggiungiamo. Come facciamo ad aggiungere storage nella network? Allora possiamo prendere eh dei dati che ci vengono dati da 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 Bob o addirittura questo protocollo funziona con dati che Alice si sceglie da sola per cui se anche Alice si volesse fare questo protocollo con una lista di zeri compressibile il risultato di tutto questo procedimento non è compressible per quello che andiamo a vedere ora. Quindi si prendono questi dati si compiù si si calcola questo commitment e il commitment a questi dati è ehm diciamo il il public input per calcolare eh l'advise dell'inizialization. Si prova che questo advice è stato è stato computato correttamente cioè nella pratica si fa vedere che eh eh le label di questo grafico sono state correttamente generate dopodiché facciamo un oxor tra l'advise che abbiamo appena calcolato e i dati e questo è quello che eh Alice il prover dovrà dovrà conservarsi e dopodiché si mettono i commitment sia di eh dell'advise sia del dato on chain. dopo questo questo step quello che abbiamo è che eh il dato è stato eh è stato è stato fatto un encoding del dato in maniera incompressible e on chain ci sono del degli endol che puntano eh sia questo advice sia il dato in sé. Come facciamo a fare auditing dello storage cioè a fare l'execution phase? quello che succede è che ehm Bob fa delle challenges Alice risponde a queste challenges in 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 meno di t steps qualunque cosa questo voglia dire se siamo nel mondo eh di di cost model o nel mondo di time model e eh diciamo rivela le i i nodi di cui viene viene fatto challenge di ehm dell'advise che è di ripeto il dato di XOR con l'advise della prover space e questa prova di nuovo va on chain in modo tale che tutti possano eh possano verificarla. In particolare che cosa abbiamo provato? Che per ogni audit Alice senza rivelare tutto il dato di cui sta facendo storage probabilisticamente ha provato che si sta tenendo questo Dixor A. ora scusa una domanda ehm se diciamo queste prove vanno on chain ehm questo significa che il file quindi il dato non può essere confidenziale perché la prova rivela almeno alcune informazioni sul dato. Però Bob potrebbe fare potrebbe fare encryption del suo dato all'inizio. Possono essere dati cifrati. Sì qualsiasi cosa. Il dato è up to you. Perfetto. Ok grazie. Niente. Ora una domanda che potreste farmi eh e che effettivamente la grande domanda di un sistema di questo tipo che vuole fare storage dei dati ma vuole anche ehm permettere la retrieval di questi dati se il client appunto li vuole li rivuole indietro giustamente è come facciamo a fare data retrieval perché in questo momento Alice sta facendo storage solo di Dixor Advice. quindi non ha i dati in chiaro in mano. Ha un encoding incompressible di questi dati che dobbiamo tra virgolette in qualche modo invertire per recuperare i dati. Come funziona data retrieval? In questo tipo di prove ed è un aspetto su cui stiamo lavorando duramente diciamo così per migliorare su questo aspetto ehm l'encoding e diciamo l'encoding e la retrieval dei dati è un procedimento simmetrico per cui per ricavarsi i dati dal dai dati dai dati encoded Alice deve praticamente fare rerunning di tutta l'encoding procedure per cui deve riprendersi il commitment dei dati che che è on chain come abbiamo visto prima. deve fare rerunning di tutta l'inizialization step come quindi calcolarsi tutte le label perché deve fare questo perché con questo inizialization lei riesce ad avere quelli che erano i nodi verdi. ehm questi c1 u c11 c12 c13 c14 c15 a questo punto siccome l'encoding è definita come advice della proof of space XOR data se facciamo lo XOR dell'advise con quello che Alice eh si sta tenendo quello che abbiamo trivialmente sono i dati eh in output. hm quindi Alice può sempre fare retrieval dei dati utilizzando solo public information in particolare il commitment dei dati che come abbiamo detto sta on chain. ora ehm facciamo un attimo di di facciamo uno step in più rispetto a come applichiamo queste primitive queste cose su file coin ehm l'inizialization della proof of space viene fatta dai miner ogni volta che vogliono fare un boarding di un'unità di spazio eh e questa è quella che noi chiamiamo impropriamente tra virgolette ma ormai per questioni di legacy è così eh quindi per ogni inizializzazione eh quindi per ogni inizializzazione viene prodotta una replica ehm che sono n bytes di storage che sono committed alla alla file coin network e questi sono diciamo da una parte si si fa commitment di questi n bytes e dall'altra sappiamo che abbiamo questa space harness garantì per quello che abbiamo detto adesso. ehm e l'advice diciamo così è è questa replica che questa che cosa che chiamiamo replica che viene committata on chain insieme ai dati esattamente come abbiamo visto nella slide precedente. Poi abbiamo una fase di execution che in questo momento avviene una volta ogni una volta ogni ventiquattro ore che chiamiamo window post che praticamente il il fare running della fase online di questa proof of replication e questo ci assicura che se il miner risponde correttamente effettivamente ha fatto storage di questo dato nelle ventiquattro ore precedenti ehm che in questo contesto usiamo in questo momento una rationale assumption questo ci permette di fare eh di avere una finestra di tempo molto ampia di ventiquattro ore eh altrimenti se avessimo un un time model con una finestra di tempo di ventiquattro ore dovremmo dire che fare una porzione del grafico ci deve mettere almeno ventiquattro ore e questo non va bene per ragioni di efficienza a a monte ehm com'è file coin in questo momento diamo vi do giusto due dati questa cosa l'ho presa stamattina abbiamo circa dodici exabyte di storage eh abbiamo lanciato un anno fa come dicevo come dicevo all'inizio eh abbiamo più o meno tre mila quattrocento miner e eh trecentosessanta milioni di repliche nella network dove ogni replica come vi dicevo è trentadue gigabyte o abbiamo un'opzione anche di sessantaquattro gigabyte che però è eh molto meno popolare tra virgolette eh tutte queste ci sono varie pagine web che vi danno le informazioni in tempo reale tutte quelle che vi ho fatto vedere fino adesso sono su filfox.info eh ci sono anche altri tool uno si chiama filscan eh ne trovate vari insomma se siete curiosi di vedere un po' di di statistiche di di dati ehm ora avete visto che quello che vi ho detto è che tutte queste prove tutti questi commitment devono andare a un chain per permettere eh verifica pubblica da parte di tutta la network eh e vi rendete conto che con trecentottanta milioni di settori eh questa cosa non è fattibile eh quindi che come facciamo a ridurre on chain footprint cioè la quantità di informazioni che devono andare on chain in questo momento usiamo snarks per i criptografi parlo di cose ultra note per i non criptografi è un eh uno strumento criptografico che ci permette di fare di avere eh prove che sono cost and sides ehm e quindi lo usiamo diciamo così solo tra virgolette per comprimere tutte queste prove non ci interessa eh quello che che fanno altri con tutte queste cose di zero knowledge o che in questo momento noi usiamo snarks eh usiamo growth sixteen eh solo per eh comprimere la la taglia di queste di queste prove che che vanno in centro eh ci sono lavori in corso anche su questo aspetto abbiamo fatto un release poco tempo fa di un di un protocollo per fare aggregation di queste snark proofs eh trovate tutto sulle nostre pagine o sui print se siete interessati eh tutto per me eh ovviamente se ci sono domande sono sono contento di di parlarne e di discutere insomma grazie eh grazie Luca per il seminario è stato veramente molto utile per capire un po' tutte le problematiche che Falcone affronta grazie a tutti